Sono già iniziati i lavori di efficientamento energetico del nuovo cinema caporali di Castiglione del Lago, la piccola dinamica multisala gestita dal Lago d'Arte, impresa sociale nel centro storico. Dopo il completamento dei lavori di riqualificazione che lo scorso settembre hanno restituito alla cittadinanza una multisala rinnovata, moderna e funzionale, ecco un altro intervento messo in cantiere dall'amministrazione comunale grazie all'attento lavoro dell'area governo del territorio. L'abbassamento della domanda energetica richiede interventi innovativi nel patrimonio culturale, nei cinema e nei teatri. A causa delle strutture spesso vetuste, gli edifici sono altamente energivori e costosi nei servizi di manutenzione per far fronte alle crescenti esigenze di aria condizionata, illuminazione e sicurezza. L'intervento prevede la coibentazione delle pareti esterne della struttura e il rifacimento della copertura garantendo dei valori di trasmittenza termica inferiori ai limiti normativi. Si riqualifica così l'immobile di proprietà comunale sia dal punto di vista dell'ecoefficienza sia per ottenere una riduzione dei consumi energetici con evidenti benefici per l'ambiente. Il costo complessivo dell'intervento è di 406 mila euro, di cui 336 mila finanziati con delle risorse intercettate dal PNRR e i restanti 70 mila euro con fondi del comune di Castiglione del Lago.